Il tema dell'NZEB, che è il tema dominante di quest'anno, è sicuramente il tema del momento. Quindi chiaramente tutte le nuove costruzioni andranno verso il requisito di essere energia quasi zero e quindi essendo la nostra manifestazione la casa dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili è chiaramente il tema che noi dobbiamo affrontare e lo affrontiamo in diversi contesti, sia convenistici ma anche tra i prodotti che troviamo in fiera. L'Italia in questo momento sta attraversando un momento di mercato molto buono in termini di produzioni. Abbiamo una crescita degli investimenti in innovazione, abbiamo sfiorato quasi la cifra di 310 milioni di euro in investimenti solo per quest'anno. Il mercato ha fatto registrare nel 2015 un 2,2% di produzione in incremento, sfiorando la quota di quasi 10 miliardi in termini di produzione. Quindi sicuramente l'Italia da sempre in questi settori fa la parte del leone. Sono state presentate diverse novità a Mostra Convegno Espo Comfort di quest'anno, del 2016. Sicuramente ci sono tanti temi legati ai prodotti come le pompe di calore, le caldaie a condensazione e tutta una serie di mix di impianti che vanno sempre più verso il concetto del risparmio energetico e dell'efficienza energetica.